CERVO TI STREGA CERVO è un'iniziativa culturale che gioca un po' su questo doppio senso perché Cervo è un paese bellissimo, incantevole, un borgo stupendo e in effetti strega chiunque lo vada a visitare e ci si trovi. Ma in questo caso strega è il premio strega, famosissimo di livello nazionale e internazionale direi e Francesca lo ha portato in qualche modo a Cervo, mi pare sia la seconda edizione. Ecco allora bisogna partire dall'inizio, direi intanto come è nata questa idea, com'è che il premio strega arriva a Cervo. Sì, arriva perché l'anno scorso a Cervo avevo iniziato a curare delle resegne letterarie durante la primavera e durante l'inverno e poi pensavo qualcosa per la stagione estiva. Siccome i miei nonni sono stati due scrittori del Novecento che hanno abitato a Cervo negli anni Cinquanta in una zona collinare che si chiama Montepiano, lei si chiamava Orsola Nemi, era un nome d'arte per Flora Vezzano ed era una scrittrice, traduttrice di grande talento che si è occupata di diversi generi letterari, dalla poesia al romanzo, alle favole soprattutto, e il marito Henry First era uno scrittore americano, un uomo eclettico di grandissima cultura, corrispondente del New York Times per la letteratura italiana. Loro hanno vissuto a Cervo negli anni Cinquanta, in particolare Orsola Nemi era molto amica di Maria Bellonci, che era la fondatrice del premio Strega a Roma, perché infatti il premio Strega vi è dal 1947 e nasce proprio a casa Bellonci. Maria Bellonci riuniva sempre come giorno di domenica amici intellettuali, scrittori e artisti, tra i quali appunto i miei nonni, e da lì appunto l'idea di fondare un premio letterario. Tra questi vi era Guido Alberti, l'allora proprietario della ditta Strega Alberti di Benevento, il quale si propose come sponsor di questo premio letterario che poi ancora oggi è così prestigioso, così importante. Ho pensato dunque di rinsaldare questi luoghi, cioè Cervo, la casa di Montepiano, con la casa a Roma di Maria Bellonci, e di rinsaldare soprattutto questa antica amicizia. Perciò tutta questa idea nasce e si sviluppa sull'amicizia del passato e poi del presente, perché anche grazie all'aiuto di tanti amici siamo riusciti a realizzare questo grande sogno di portare in Liguria il premio letterario più importante d'Italia. Ecco, perché Cervo ha ospitato diverse serate, il 26, 27 e 28 giugno all'oratorio di Santa Caterina, ci sono state le serate con i cinque finalisti e poi il 5 luglio nella piazza di San Giovanni la serata in grande, possiamo dire, con il vincitore, vincitore che è stato Nicola La Gioia con La Ferocia, il 27 giugno è stato anche nostro ospite Walter Barberis, che è il presidente della casa editrice in Audi, che è anche un caro amico di Cervo ed è venuto proprio Barberis a presentare questo libro in Nicola La Gioia. E poi siamo stati molto felici di poterlo riaccoglierle. a soli due giorni della premiazione a Roma, a Villa Giulia, lo abbiamo accolto appunto sulla piazza dei Corallini. L'edizione di quest'anno è stata davvero speciale, anche come date, perché tutte e quattro le serate si sono sviluppate proprio in stretta sinergia con la premiazione a Roma, perché la cinquina e i cinque finalisti sono venuti a Cervo a pochi giorni di distanza, cioè è stata l'ultima uscita pubblica dei cinque finalisti prima della premiazione a Roma. E poi a soli due giorni di distanza il vincitore è ritornato a Cervo ed è stata la sua prima uscita pubblica, perciò l'abbiamo festeggiato tutti insieme. Tra l'altro il vincitore che per restare in cima vedevamo in queste fotografie che la regia ci stava proponendo è stato premiato con un libro, non con un libro scritto da un altro autore, ma con un libro fatto da un artista, anche di legato a Cervo. Sì, è bellissima questa cosa perché appunto così anche l'arte ha avuto, l'arte appunto di grande valore ha avuto uno spazio importante. A Cervo è stato donato al vincitore del premio Strega un libro d'arte, una donazione d'arte che il pittore di origini cervesi, ma di fama internazionale, Raffaele Rossi, ha donato al comune di Cervo e che il comune di Cervo, appunto il sindaco Giampaolo Giordano, ha consegnato a Nicola La Gioia questo libro d'arte che è fatto con la tecnica dell'affresco, è un dittico, con le pagine appunto create con la tecnica dell'affresco e perciò è stato un dono molto prezioso e originale che Nicola La Gioia ha apprezzato molto e appunto per questa idea di una cultura un po' ad ampio raggio, per questo quest'anno è stato anche ideato un premio che è il premio Lo Sport Ti Strega e per questo abbiamo premiato due giovani atleti, domenica 28 un atleta Giorgio Amodeo diversamente abile e domenica 5 luglio un atleta cervese, un pallanuotista, Nicolò Rocchi, che appunto è nella serie A della pallanuoto della squadra di Sori, ecco perciò proprio per coinvolgere anche lo sport e poi anche la cucina come altra forma di cultura, grazie alla collaborazione di tutti i ristoranti cervesi che hanno creato ricette a base di liquore strega, dolci, primi, cocktail, è stata una cosa molto bella e abbiamo perciò proprio stampato, grazie al nostro sponsor Carli, un ricettario che l'abbiamo chiamato A Tavola con lo strega, dove sono state inserite ricette a base di liquore strega e anche alcune ricette tratte dal ricettario Carli, proprio tipicamente Liguri. È assolutamente famosissimo e conosciuto anche a Vito, il ricettario Carli. Ecco, qui si spiega anche un po' il successo che avete avuto dal punto di vista del pubblico, perché è una presenza a fonte numerosa di pubblico, perché sicuramente importanti gli autori, importanti i volumi, il premio letterario, che avevano bisogno di presentazioni, ma avete saputo dare una cornice meravigliosa. Poi la scenografia è anche fantastica. Sì, anzi, io ringrazio anche le aziende di arredamento che ci hanno sostenuto, come ad esempio Emozioni, perché sul palco dei Corallini c'erano sedie, salotti, una sedia particolare con questo meraviglioso viso e tutto arredamento firmato che ci è stato appunto prestato per questa occasione speciale. Ecco, perciò abbiamo cercato di curare anche gli aspetti così scenografici. Un'occasione speciale anche per promuovere, diciamo, ecco, qui vediamo appunto la scenografia di cui ci sta parlando Francesca, e anche con gli intermezzi musicali, che abbiamo visto su questo palco dei Corallini, anche la musica, ma anche un modo per promuovere Cervo come location di eventi. È veramente un teatro naturale quello dei Corallini. Per non parlare poi dell'intero borgo, ecco, queste immagini, meno testimonio. Sì, diciamo che poi grazie a tanti sponsor, quali ad esempio la Camera di Commercio, che è stata, per prima, insieme alla Regione, Liguria, Unioni Industriali d'Imperia e tanti sponsor, hanno creduto in questa iniziativa culturale, ma con un forte svolto anche turistico, ecco, cioè proprio che aiuta anche a creare un'identità turistica. Per questo sono stati creati dei pacchetti turistici, con il supporto del Consorzio Ligure d'Imperia, pacchetti turistici proprio ad hoc, ad esempio il Circolo dei Lettori di Torino, che ha mandato proprio dei pullman che sono arrivati per queste serate. Quindi, insomma, il turismo culturale esiste, esiste ancora, c'è... Sì, bello testimonio al fatto che... E resiste, dovremmo dire, da questo punto. Che l'ultima sera sulla piazza di Corellini c'erano quasi 400 persone e c'è stato tutto esaurito anche le altre sere nell'oratorio di Santa Caterina. Sì, questa è proprio la dimostrazione, penso che si possa fare un turismo di qualità. Allora, secondo anno, Francesca con Cervo ti strega e di solito si dice, non c'è due senza il tre, e il resto viene da sé. Eh sì, beh... State già lavorando alla terza? Sì, sì, stiamo già lavorando per migliorare, diciamo, gli aspetti che si possono migliorare, che sicuramente sono sempre tanti, però direi che l'amministrazione di Cervo, insomma, tutto il comitato stregato che ha lavorato per realizzare questo grande evento, insomma, è soddisfatto. Ecco, siamo rimasti tutti felici. Poi, l'ultima sera abbiamo avuto anche un ospite eccezionale, Enrico Bertolino, che è stato davvero briclettico, molto divertente, e perciò ha creato veramente una perfetta sinergia insieme a Nicola La Gioia. Ecco, è stato veramente piacevole, insomma. Quindi ci sono stati tanti spazi di divertimento, anche di approfondimento culturale e di turismo, possiamo dire. Sì, sì, certo. Siamo che altri enti, altri privati, si possano aggiungere anche come sponsor, perché devo dire che quest'anno sono rimasti anche gli sponsor tutti molto soddisfatti. Sono state create addirittura delle vetrine, tutte le attività e i negozi di Cervo, delle vetrine, dove sono stati esposti libri. Per questo ringrazio anche la collaborazione della Mondadori d'Imperia, che è stata un po' la libreria della manifestazione, ha collaborato molto, libri e poi del Liquore Strega. Ecco, perciò tutto il borgo è stato coinvolto e ha partecipato. La pasticceria Aracca, che ha creato una gigantesca e buonissima torta a base di Liquore Strega, che è stata appunto portata sulla piazza il 5 luglio, perciò insomma abbiamo anche festeggiato con dei dolci. e poi tutti i ristoratori, San Giorgio, che ha conquistato ad esempio Bertolino con l'ultima cena, infatti Enrico Bertolino l'ha ringraziato pubblicamente dicendo non è vero che con la cultura non si mangia, insomma, perché ha apprezzato moltissimo la cucina ligure. Anche perché nel nostro territorio è importante unire gli eventi a quello che sappiamo offrire tutto l'anno. Quindi la bellezza sicuramente di un borgo come Cervo, ma anche i prodotti tipici e la capacità, la sapienza dei nostri ristoratori di saperli proporre al pubblico, abbinarli con il giusto vino. Quindi penso che ogni cosa possa essere giusto veicolo per promuovere a tutto tondo. Sì, ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale di Cervo che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto che ho proposto e che continua a crederci e supporta l'iniziativa perciò ci terrei a ringraziarla. C'è stata una crescita rispetto al primo anno? Tra il primo e il secondo avete notato? Sì, sì, c'è stata una crescita. Già il primo anno è stato veramente un successo così, forse per alcuni inaspettato. Ecco, secondo anno ancora di più perché sulla piazza l'ultima sera per dire che tanti sono dovuti sedere sui muretti e sui gradini perché non trovavano da sedere, insomma. Perciò questo dimostra che c'è stata una crescita ulteriore. Poi quest'anno c'è stata sicuramente una maggiore attenzione ad alcuni aspetti. Ecco, ad esempio anche la musica ha avuto una parte importante, le tre sere in oratorio. Gli intermezzi musicali sono stati curati da un tenore afroamericano, Timothy Martin, che è veramente un tenore straordinario, che lavora molto con Amy Stewart e che con la sua voce ha veramente stregato tutti. Quindi grandi nomi non soltanto della letteratura. Non soltanto della letteratura. L'ultima sera sulla piazza c'è la Paola Orecchia, che è un jazzista bravissimo, che ha lavorato moltissimo con Bersani, con Baglioni, con Pino Daniele, insomma collaborazioni veramente importanti. Perciò c'è stato veramente l'eccellenza in tutti i campi. Ecco, anche in quello giornalistico è stata bravissima Alessandra Tedesco, che conduce su Radio 24 una trasmissione, Il Cacciatore di Libri, e lei ha condotto una bellissima serata dedicata a Elena Ferrante, Lucia Pescio, la collega della Lancia. Poi c'è stato anche le attrici, che sono state bravissime, Livia Carli, di Spazio Vuoto, insomma realtà importante imperiese, che è stata veramente brava, ha letto pazzi tratti dal libro di Sant'Agata. e poi Veronica Rocca e ancora Cloris Brosca, la zingara televisiva che ha interpretato magistralmente passi tratti dalla tetralogia di Elena Ferrante. Ecco, perché non l'abbiamo detto, ma c'erano tanti finalisti, erano cinque finalisti, ma un bel partire, ho visto nella pubblicazione. E' una cinquina molto interessante, la prima serata poi è stata dedicata al mondo dei giovani, ed è stato bellissimo perché i ragazzi del liceo d'Imperia, perché il liceo d'Imperia, c'è da dire che è l'unico liceo in Liguria a partecipare alla giuria nazionale del premio Strega Giovani, che è un premio che è stato attivato da due anni, e il vincitore viene premiato a Montecitorio dal Presidente della Camera, e quest'anno è stato proclamato Fabio Genovesi. I ragazzi d'Imperia hanno contribuito perciò a questa premiazione. È una bella responsabilità. Sì, esatto. Allora hanno letto tutti i dodici libri finalisti, hanno fatto appunto delle riflessioni, dei lavori su questi dodici libri finalisti, guidati dalle loro insegnanti di lettere, e poi sono venuti il 26 giugno a Cervo ad intervistare di persona, insieme alla professoressa Nicoletta Sasso, Emanuela Rotta e Barbara Rusponi, sono venuti e hanno intervistato sia Fabio Genovesi sia Marco Sant'Agata e hanno fatto veramente domande che sono piaciute molto sia agli autori sia al pubblico. Hanno dimostrato insomma di aver letto con passione e approfondimento, Sì, no, è stato veramente bello, devo dire. Sono stati molto bravi. Perciò è anche bello questo discorso di promozione alla lettura tra i giovani e di coinvolgimento delle scuole. Una promozione che è anche stimolante, perché far leggere il libro a scuola come imposizione, magari durante le vacanze, diventa una cosa con poca risposta, poi in termini pratici. Invece coinvolgere in una giuria di un premio importante come lo strega e metterli a contatto con l'autore sicuramente è molto più stimolante. Mi racconto un piccolo episodio, ad esempio qualche giorno fa sono entrata in un bar ad Imperia e a un certo punto c'era un gruppo di ragazzi dietro di me che parlava dello strega. E mi sono girata e questi ragazzi mi hanno riconosciuto, erano ragazzi che erano l'anno scorso nella giuria del premio strega giovani. Inizio. Esatto, che adesso avevano già finito, fanno l'università ed erano lì che stavano parlando per mettersi d'accordo perché volevano venire alle serate di Cervo. Ecco, mi ha fatto molto piacere perché, voglio dire, non erano obbligati, chiaramente. Cioè, liberamente, gli era talmente piaciuta l'esperienza dell'anno scorso. E' chiaro che sono stati coinvolti da questa cosa. Esatto, ed è un modo appunto per avvicinarli comunque al mondo dei libri, insomma. Insomma, mi ha fatto veramente piacere. Anche perché si rischia di perdere un po' la lettura. e poi non so, adesso anche tra carta libro stampato che rimane in questi e-book, queste diavolerie elettroniche. Esatto. Io personalmente sono un po' più tradizionalista. preferisco il libro, conservarlo anche sullo scaffale ogni tanto magari andando a spiegare. Sì, beh, ha un sapore diverso. Indubbiamente mi dà un'idea più, maggior coinvolgimento. Sì, ha un sapore speciale, insomma. Indubbiamente. Sì, anch'io sono un po' di questa idea. E a questo punto possiamo dare l'appuntamento al prossimo anno. Un arrivederci, naturalmente, al nostro. perché speriamo che appunto non solo ritorni Cervo di strega ma possa trovare ulteriori sostegni e magari anche una collaborazione più stretta con Imperia TV per poterlo seguire maggiormente. Certo, volentieri. Allora vi aspettiamo, insomma, tutti e farvi stregare da Cervo che poi Cervo è bellissima in ogni momento dell'anno regala sempre, insomma, angoli magici davvero. Assolutamente. Grazie allora a Francesca Rotta Gentile appunto ideatrice e curatrice di questo Cervo di strega che è legato a questo premio così importante di livello nazionale e internazionale dedicato alla letteratura. Grazie. Un arrivederci, Francesca. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie molto. Buona serata e un arrivederci al pubblico. Grazie.